Grazie a tutti. Oddio, mamma mia! Oddio! Dammi la mano, ci rilassi. Oddio, mamma mia! Guarda, stai, forza! Mi aiuti lei. Allò, allò, tu ricontrolla Frankfurt a Main sul meno? Qui arriva il taxi fisico di G8 che chiede l'autorizzazione di attraggio, di attraggio. Qui non è Francoforte, è Milano, è Milano. Milano. Come Milano, ma tu fai scherzo, no? Ma quale scherzo? Qui è Milano, aeroporto di Milano. Milano, parlaci tu. Allora, quello che vi ha passato era il casello di Mileniano. Mileniano. Milano, avanti! Ma dove siete? E dove siamo? Sul radar? Non vi leggiamo. Forse state volando troppo bassi. Probabilmente sì, ma noi vi vediamo benissimo, anche ad occhio nudo. Cambio? Non vi vediamo. Sul radar non vi vediamo. Siamo davanti a voi! Scusi, scusi, scusi. Marci indietro! Aiutami! Ah, grazie che mi hai preparato il bagno, Pina. Ma sei tu con il pesce spada? No! C'è da! C'è da! C'è da! C'è da! C'è da! C'è da! Allora, cosa vuoi dire, no? Mamma mia, che dolore! Mamma mia, oddio! Oddio, mamma mia, che dolore! Oddio, mamma mia, oddio! goodio, mamma mia, oddio! Scusi si te disp也是!